Ciao, benvenuti su Smart Cooking. Oggi vi prepariamo degli antipasti che noi abbiamo deciso di rinominarli natalizi ma voi potete farli quando volete. Potete farli dalla vigilia al giorno di Natale, al pranzo di Natale, il 26, a Capodanno. Quando volete. Esatto. Perché sono buoni per ogni occasione. Sono sempre buoni. Andiamo a prepararli. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.